In Italia sono 7 milioni di persone con problemi di udito, corrispondenti al 12% della popolazione. Una persona su tre tra gli over 65. Solo il 31% della popolazione ha effettuato un controllo dell'udito negli ultimi 5 anni, mentre il 54% non l'ha mai fatto. Sono solo alcuni dei numeri forniti durante la conferenza stampa di presentazione a Pescara di Nonno Ascoltami che torna dopo il successo delle passate edizioni con questa, la tredicesima, che porta fortuna. Si parte il 18 settembre nelle piazze d'Abruzzo, una campagna di sensibilizzazione sulla salute dell'udito che vede medici e volontari in piazza non solo per i più anziani, ma anche per dare consigli ai giovani sui danni provocati da musica alta, dispositivi sonori, eccetera. Dal 18 settembre fino al 23 ottobre la campagna sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, patrocinata dal Ministero della Salute e premiata dalla Presidenza della Repubblica, organizzata da 13 anni da Udito Italia Ollus. Soddisfatti la Presidente Valentina Faricelli e Mauro Menzietti, ideatore di Nonno Ascoltami. Sì, siamo molto contenti di continuare questo nostro tour nelle piazze italiane, incontrare tanti cittadini e riuscire a sensibilizzarli su un tema così importante come quello dei disturbi uditivi. Purtroppo ancora grandemente sottovalutato, anche se devo dire la pandemia ci ha dato una mano perché ha evidenziato quanto è importante la comunicazione e quanto ci si sente esclusi dal mondo se si ha un problema di comunicazione e quindi i nonni per la prima volta si sono trovati a fare le videochiamate con i nipoti, la dad e quindi abbiamo capito l'udito che ruolo ha nella vita delle persone. Noi lo facciamo da 13 anni, abbiamo iniziato proprio da Pescara questa longeva manifestazione, andiamo in piazza, portiamo i medici in piazza, personale sanitario, volontari, per incontrare i cittadini e stimolarli in un modo giocoso a fare un primo controllo dell'udito. Siamo con l'ideatore di Nonno Ascoltami, questa fortunata iniziativa che va avanti da 13 anni. Oggi andare in piazza, tornare regolarmente dopo tutti questi anni e offrire visite gratuite, ma non solo visite, informazioni, perché poi non parliamo solo di persone che hanno un problema di udito, ma l'OMS ci invita sempre più ad occuparci di quelli che non devono diventare persone che hanno un problema di udito, quindi educare all'ascolto, creare una consapevolezza nuova che permetta ai nostri giovani di non crearsi danni permanenti dall'uso improprio del volume sostanzialmente. Il volume, le cuffie, tutti questi dispositivi di cui abusiamo sono quelli che ci creeranno probabilmente dei danni ed è questo che dobbiamo evitare. Ed ecco le date nelle piazze, ricordate durante l'incontro moderato da Paolo Gassignani. Domenica 18 settembre L'Aquila, Pescara 25 settembre, Chieti e Lanciano 2 ottobre, 9 ottobre in Molisi a Termoli, 16 ottobre Lanciano-Teramo-Giulianova, 23 ottobre Basto.